Presentazione di Mera Industries Limited, rivoluzione nella torsione dei pilati con avvolgitori di assemblaggio di precisione. Da oltre 20 anni, Mera Industries Limited è all'avanguardia nella produzione di avvolgitori a cono e avvolgitori di assemblaggio, potenziando l'industria tessile in oltre 35 paesi. La nostra competenza nella catena del valore della torsione dei pilati ci ha posizionato come leader di fiducia, offrendo soluzioni all'avanguardia per la preelaborazione di vari tipi di filato, tra cui filato-filato, filato di base, filato per tappeti, filato ad alta massa e filo per cucire. Cosa rende essenziali gli avvolgitori di assemblaggio? Un avvolgitore di assemblaggio è l'eroe non celebrato nell'industria tessile dei pilati, fondamentale per combinare o intrecciare più pilati per prestazioni migliorate punto quando applicazioni specifiche. Richiedono un denari più elevato o una maggiore resistenza? I nostri avvolgitori di assemblaggio sono indispensabili. Immagina di aver bisogno di un denari di filato di 1200 ma di avere a portata di mano solo filati. Da 300 denari punto le nostre macchine possono intrecciare senza soluzione di continuità 4 filati, insieme per soddisfare le tue esigenze specifiche. Caratteristiche principali che distinguono gli avvolgitori di assemblaggio Meera. Lunghezza uniforme del filo. I nostri avvolgitori di assemblaggio garantiscono che non vi siano discrepanze di lunghezza tra i filati ritorti. Punto questa uniformità è ottenuta tramite tenditori avanzati e rulli di sovralimentazione che mantengono una qualità del filato costante. Nessun filo mancante. Ogni filo è importante. Con il monitoraggio dei sensori dei singoli fili garantiamo che nessun filo manchi durante il processo di assemblaggio, assicurando l'integrità del prodotto finale. Tensione costante. Di addio ai loop allentati o irregolari. Le nostre macchine assicurano una tensione costante su tutti i filati, migliorando la durata e la resistenza. Conteggio preciso dei metri. Ogni fuso è dotato di un contametri, che assicura che ogni bobina abbia esattamente la stessa lunghezza del filato, riducendo gli sprechi e migliorando l'efficienza della produzione. Supporto versatile per tubi. Che tu stia utilizzando tubi paralleli, nastri o tubi flangiati, le nostre macchine sono progettate per supportare vari tipi di tubi e lunghezze trasversali, offrendo flessibilità per una gamma di requisiti di produzione. Modelli versatili per soddisfare ogni esigenza. Offriamo tre modelli distinti per abbinare il denario e il titolo specifico del filato. A W 150 per una traversa da 6. A W 200 per una traversa da 8. A W 250 per una traversa da 10. Velocità a precisione e personalizzazione. I nostri avvolgitori di assemblaggio ad alta velocità funzionano a una velocità di 300 a 700 metri, al minuto, con la capacità di gestire fino a 24 fili e denari fino a 12.000. Queste macchine sono completamente personalizzabili con un display PLC per semplici impostazioni dei parametri come il titolo del filato, il tipo, la velocità e le lunghezze preimpostate. Hai bisogno di più controllo. Il nostro pulitore sopraelevato assicura un avvolgimento senza detriti e ogni mandrino è monitorato, individualmente per fermarsi in caso di perdita di un filo. Efficienza oltre le aspettative. Gli avvolgitori di assemblaggio Mera offrono. Tamburi azionati da motore individuali. Questo elimina la necessità di manutenzione meccanica e raddoppia la velocità di produzione rispetto ai comuni. Avvolgitori azionati da albero. Risparmio energetico e di spazio. I nostri avvolgitori consumano metà dell'energia e risparmiano fino al 40% di spazio in fabbrica. Compatibilità e applicazioni dei filati. Gli avvolgitori di assemblaggio Mera sono progettati per essere versatili e compatibili con vari filati tra cui poliestere e nylon PPMF. Filati filati, cotone, misti. Queste macchine brillano nella doppiatura di filati di base, nella produzione di filati per tappeti e nella creazione di fili per cucire. Le applicazioni comuni includono doppiatura di filati di base, 2 barra 20,2 barra 30, 2 barra 40,2 barra 80, filato acrilico 40 barra 2,60 barra 2, filati di cotone come 10 barra 14 barra 3,10 barra 16 barra 3. Filati per tappeti multistrato, 300 barra 2 barra 4, 300 barra 4 barra 2,600 barra 3 barra 3. Tecnologia di avvolgimento di precisione e caratteristiche di potenza. La nostra tecnologia di avvolgimento di precisione garantisce processi di avvolgimento accurati ed efficienti che massimizzano la produzione e la qualità. Con il controllo dell'inverter, un tamburo scanalato in alluminio anodizzato per la traversa e sensori di avvolgimento per prevenire guasti, gli avvolgitori Mera offrono prestazioni superiori che soddisfano le esigenze delle operazioni tessili ad alto volume. Fai il primo passo verso una maggiore efficienza. Sblocca il potenziale degli avvolgitori di assemblaggio ad alta velocità e precisione di Mera Industries. Aumenta la tua produzione, riduci gli sprechi e sperimenta una qualità senza pari con le nostre soluzioni. Contattaci oggi stesso, email email saleschiocciolamirend.com